E' morta di recente la famosa attrice francese Patricia Millardet. Si spegne a 61 anni di età. Si ricorda perché partecipò alle serie televisive La Piovra dove interpretò il ruolo di Sylvia Conti, questa donna così importante all'interno della stessa fiction, del stesso telefilm. Si spegne all'ospedale San Camilo di Roma, ubicato nel quartiere Circonvalzionostiense e Barra Monteverde, per colpa di una crisi cardiaca. Era molto brava, era molto in gamba, aveva una grande capacità di recitazione, questa brava e bella attrice, e si spegne giovane. Io non aggiungo altro, questo video termina qua, questo video non vuole ledere la privacy di Patricia Millardet, ma solo informare eventuali persone del fatto che purtroppo se ne va un pilastro del cinema o meglio della tv a soli 61 anni di età. Grazie Patricia Millardet, riposi in pace, Amen. Grazie a tutti.